L'adrinazione scatta l'allarme che giunge in sala operativa e la volante del commissariato di Fano parte all'istante. Arriva nei pressi del distributore T.E. di Viale Romagna in zona Gimarrafano dove questi cinque uomini di origini rumene ma provenienti dal Lazio avevano appena pescato con un metodo ormai noto le banconote della macchinetta self-service per un totale di 400 euro, il tutto in soli 33 secondi. L'intervento tempestivo degli agenti coordinati dal dirigente Stefano Seretti ha permesso sia di bloccare i malviventi all'interno dell'auto, una fiappunto parcheggiata in via del Moletto e quindi poco distante, sia di recuperare la rifurtiva e gli arnesi da scasso appena utilizzati all'interno dell'abitacolo. La ricostruzione del furto, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, ha permesso di stabilire il modus operandi della banda, specializzata in colpi nei distributori di carburante. Due componenti del gruppo avevano forzato la colonnina self-service prelevando il denaro, mentre gli altri due complici facevano da palo e il terzo alla guida dell'auto pronto per la fuga. La strategia del modus operandi che ha queste bande è quella di scassinare le colonnine self-service, di forzarle, poi di introdursi all'interno della colonnina dove vengono risucchiate le banconote dei rifornimenti e quindi con una paletta costruita artigianalmente con del biadesivo riescono ad arrivare al deposito delle banconote che si trova sottoterra e a tirare su, proprio a pescare, nel vero senso della parola, queste banconote facendole appiccicare a questo strumento e tirarle su. Quindi hanno bisogno di quei due o tre minuti di tempo per poter operare e lì è il segreto per poterli arrestare nella fraganza di reato. Gli arresti nei confronti dei cinque romeni di età compresa tra i 27 e i 52 anni sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria che inoltre nei confronti di due di loro ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo. Questi soggetti sono anche pregiudicati? In molti casi sono pregiudicati anche di reati molto gravi come rapine in villa, come associazione per delinquere, finalizzate le rapine, la prostituzione e quindi si tratta anche molto spesso di soggetti molto pericolosi. Questa è la seconda operazione portata a termine in poco tempo dalla polizia per il contrasto di furti. L'ultima infatti risale al 21 febbraio scorso con l'arresto degli autori di un colpo messo a segno al distributore IP a Metaurigna di Fano, arrivando così a un totale di 10 arresti in flagranza di reato. In alcuni forti compiuti nel centro Italia, questa banda è riuscita a prelevare fino a 30.000 euro in un unico distributore. Questa mattina la conferenza stampa che si è tenuta in questura a Pesaro era presente anche alla Confcommercio con la FIGISH, la categoria dei gestori di impianti di carburante per lanciare l'appello di dotarsi di sistemi di sicurezza e di telecamere di videosorveglianza, misure di prevenzione che risultano poi fondamentali per eventuali indagini delle forze dell'ordine legate a questi reati. Ho voluto sottolineare oggi la grande professionalità che i nostri operatori della Polizia di Stato a Fano hanno compiuto, dove si evince la tempestività di intervento, la professionalità nell'intervento e poi, ripeto, un servizio fornito alla collettività dove denota soprattutto il nostro profondo e capillare controllo del territorio, che la nostra arma vincente sarà la nostra arma vincente.